Ciao ragazzi, oggi volevo, cioè volevo, mi hanno nominato per fare l'ice bucket challenge ma oggi siamo qua per buttarci un cicchio d'acqua addosso perché ho visto un video di un youtuber che giustamente diceva che questa cosa potrebbe essere fraintesa per alcuni, alcuni potrebbe dar fastidio e potrebbe essere intesa come una presa supericulo, quindi oggi ci butteremo un cicchio d'acqua gelata addosso per divertimento anche perché se questa cosa non mi divertisse giustamente non la farei quindi facciamo questa cosa per divertimento e vabbè se riusciamo per aiutare anche i malati ma giustamente questa cosa potrebbe essere fraintesa quindi lasciamo stare siamo pronti l'acqua è congelata, non c'è nei cubetti di ghiaccio perché sono appena sciolti da me si dovrà fare o no siamo pronti 3, 2, 1 3, 2, 1 ok allora, anche perché non c'è una bella giornata quindi comunque io nomino i due giocatori incapaci Oscar The Dreamer e Fabius che è in vacanza quindi ha tutto il tempo che vuole e niente vedremo come andranno a finire gli altri, ciao a tutti grazie grazie grazie